Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto Roberto Rusconi, storico della Chiesa. Con te parleremo del concistoro di domani mattina, ma prima dobbiamo raccontare quello che è successo oggi, vale a dire l'incontro di Francesco con l'Associazione Famiglia d'Esperanza. Lo faremo insieme a Nelson Giovanelli, che è fondatore di questa associazione. Buonasera Nelson, ma prima di parlare con te andiamo ad ascoltare che cosa vi ha detto Papa Francesco per festeggiare i vostri 40 anni di storia. Quanta anni or sono, il vostro carisma è nato dalla richiesta di aiuto di un giovane che voleva liberarsi dalla dipendenza della droga. In lui, in tutti coloro che sono venuti dopo di lui, avete riconosciuto Cristo che vi diceva ero schiavo dalla droga e mi avete accolto per portare nuovamente la speranza e farmi capire che una nuova vita è possibile. La chiamata che Dio vi fa di portare speranza a coloro che forse non hanno più un senso nella loro vita è una chiamata ad amarlo incondizionalmente nelle persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale. Voi sapete bene che portare speranza significa non solo aiutare a configgere i vizi, a superare i traumi, a ritrovare il posto della famiglia, della società. Però ciò che più destra l'attenzione e confirma la validità del lavoro sono le conversioni. Il ritrovamento di Dio e la partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Il vostro carisma della speranza come dono suscitato in mezzo a voi dallo Spirito Santo vi porta a prendervi cura delle persone nella loro integrità materiale e spirituale, corpo e anima. Nelson, abbiamo ascoltato Papa Francesco raccontare l'origine della vostra storia. Tutto è nato da una richiesta di aiuto di un ragazzo che aveva problemi di dipendenza dalla droga. Che è successo però in 40 anni? Che cos'è oggi la famiglia della speranza? La famiglia della speranza è una comunità che come Papa Francesco ha detto da adesso da una richiesta di un giovane che io ho trovato per la strada. Insieme ad altri 20 giovani che prendevano la droga, avevano spazzatura e con il desiderio di vivere il Vangelo loro ci hanno chiesto aiuto, ho portato loro alla nostra comunità parocchiale, però non mi immaginavo che da questa piccola esperienza è diventata una comunità, un'associazione internazionale dei fideli che oggi è sparsa in 26 paesi, con ben più di 160 comunità. Una di queste è qui in Italia, in Calabria. Sono tutti giovani ragazzi e ragazze che cercano tramite il lavoro come forma di guadagnare la loro vita, la spiritualità e una vita comunitaria di incontrare un senso della vita. Sono 40 anni passati e nel 2007 abbiamo ricevuto la visita di Papa Benedetto e in quel momento eravamo solo 48 comunità e già da quella visita che Papa Benedetto ha fatto a noi ha dato una visibilità così grande che dopo 15 anni siamo sparsi in tutte queste geossesi in 26 paesi. Visto che il vostro carisma, l'ha detto il Papa, è la speranza. La speranza riceve tutti i giorni, credo, dei duri colpi da storie di dolore, di sofferenza, da ingiustizie, da guerre. Che cosa significa per voi avere il carisma della speranza? Non solo mantenerla viva, ma contagiarla. Significa per noi quello che lo stesso Papa Benedetto ci ha detto quando ha fatto la visita. Lui dopo ha scritto una lettera per condividere quello che è rimasto nel suo cuore dicendo che la speranza è Gesù Cristo e ha detto che contava su di noi di portare questa speranza dovunque al numero più grande dei giovani. 60% di quelli che sono da noi che gestiscono queste comunità sono giovani che si sono recuperati e hanno deciso di dare la loro vita per gratuitamente donare quello che hanno ricevuto gratis. E allora buon cammino per i prossimi 40 anni. Allora è continuare a dare questa speranza alle famiglie, specialmente alle mamme perché sappiamo che questa sofferenza portano un dolore immenso ai genitori. Continuare a dare questa speranza a tutti. Grazie davvero Nelson, buon lavoro e auguri. Veniamo allora a quello che succede domani mattina alle 10 il concistoro e la creazione di nuovi 21 cardinali. Torniamo al giorno di luglio in cui Francesco ha annunciato l'appuntamento di domattina. Adesso vorrei annunciare che 30 settembre prossimo terrò un concistoro per la nomina di nuovi cardinali. La loro provinenza esprime l'università della Chiesa che continua a annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocese di Roma inoltre manifiesta l'inscendibile legame tra la sede di Pietro e le Chiese particolari tifose nel mondo. Cominciamo subito. Allora, chi sono i cardinali? Non i 21 di domani, lo scopriremo guardando il concistoro in diretta, ma nella storia della Chiesa. Sì, dunque, la figura dei cardinali appare tra XII e XIII secolo quando la Chiesa sta avviando una grande riforma. Quindi dopo la riforma gregoriana? All'interno di quella che noi chiamiamo riforma gregoriana è quando risulta vincitrice dello scoltro con l'impero germanico per la libertas ecclesie. E allora cominciano a comparire alcune figure di rilievo nella curia romana che si presentano come i primi collaboratori del Papa. Sono quelli che, per esempio, vengono scelti come ambasciatori, i legati a Latere, che vengono mandati in Italia e fuori Italia. e si assestano in un numero di circa una dozzina di persone, di dodici prelati, non di più. La loro importanza aumenta dopo il concilio di Trento quando viene creata l'organizzazione della curia per congregazioni, quelli che sono adesso i dicasteri. E allora questi cardinali vanno alla testa dei dicasteri e quindi diventano immediatamente i primi collaboratori del Papa. Sì, e anche il loro numero aumenta perché a questo punto comincia a salire verso il 60-70. Ma tutti a Roma stavano? No, non necessariamente. Molti erano anche cardinali politici, per così dire, che stavano nei loro paesi e comparivano solo al momento del conclave. Tra l'altro, la figura dei cardinali, dopo la vicenda del conclave di Viterbo, diventa centrale come elettori del Papa, non solo come collaboratori. Con cardinali di Viterbo quando furono chiusi dentro? Furono chiusi, sì. Dove siamo? Però collochiamola storicamente. Siamo intorno al 1270. Il problema è che quando loro... Furono chiusi dentro perché non riuscivano a eleggere il Papa. Sì, ma soprattutto perché Viterbo li doveva mantenere e per quello che la città disse no, sono un po' troppi e allora scoperchiarono finché questi non si decisero a eleggere un Papa. Ecco, questo era anche il motivo. Quindi una 60... Ci sono anche numeri simbolici, poi perché 12 gli apostoli, una settantina i discepoli mandati a predicare per il mondo e il grande salto si avrà invece con Paolo VI che alza questo numero a 120. A 120 che sono i discepoli al momento della Pentecoste. A questo punto però Paolo VI prende anche un'altra decisione importante. Cioè stabilisce che i cardinali che hanno più di 80 anni restano cardinali ma non votano in conclave. Quindi il risultato è dato dal fatto che in questo momento noi abbiamo praticamente un numero di elettori pari quasi a quello dei cardinali non elettori. Ecco, questo è il momento di arrivo. Il Papa sottolineava anche il legame con la Chiesa di Roma. Infatti i cardinali sono tutti titolari di una Chiesa romana. Era la vecchia tradizione. Lo erano negli effetti concreti nel XII secolo. Adesso è una cosa abbastanza nominale. Una cosa simbolica. Se voi andate alle Chiese vedete che in cima, sulla facciata, c'è lo stemma del cardinale che è il titolare di quella Chiesa. Perché si usa questo verbo strano, crea il cardinale? Probabilmente perché in realtà il cardinalato è un ufficio, non è un sacramento. Se diventi cardinale, poi adesso gli ultimi codici hanno stabilito che devi essere vescovo. Ma come cardinale è una nomina. Quindi il termine è stato cercato per svicolare il problema liturgico-procedurale. Restiamo un po' ancora su questi aspetti. Il colore rosso e l'appellativo di eminenza. Eminenza, sì. Io sono rimasto a San Francesco che diceva signor cardinale, signor papa. A un certo punto gli appellativi dei vescovi si spagnolizzano un pochino. Eminenza, eccellenza e così via. Dunque, il colore è la porpora. Quindi non è un rosso qualsiasi. Dalla tradizione è il colore imperiale. Alcuni imperatori d'Orienti venivano chiamati porfiro genito perché venivano partoriti in una sala dove c'era la porpora. Però subentra anche una simbologia cattolica cristiana dall'Apocalisse dove ci sono le vesti bianche degli eletti e le vesti rosse dei martiri. Quindi il colore un po' dipende da quello. Però non è un rosso comune. Senti, storicamente quali sono le novità ormai in dieci anni di pontificato di Francesco? Dunque, io partirei da quest'ultima nomina, per esempio, che riflette molto bene una serie di orientamenti. Cioè alcuni cardinali sono prefetti dei dicasteri. Sono i curiali. Sì, sono curiali e sono quelli che sono gli aiutanti immediati del Papa. Poi ci sono i cardinali, chiamiamoli istanziali, cioè che sono titolari di diocesi, di arcidiocesi e così via, che significa la presenza di questa nuova chiesa nel territorio. E poi c'è un notevole rilievo dato ai prelati che provengono dalla diplomazia. Proprio perché questi prelati sono, come dire, una sorta di legame diretto tra la chiesa di Roma e le chiese locali. Francesco ha aggiunto, ha accentuato anche un aspetto, cioè il cardinalato come riconoscimento. Aveva già cominciato Paolo VI, che aveva fatto cardinale Jean Danielou, viene poi fatto dopo cardinale de Lubac, cioè i grandi teologi che stanno dietro il Concilio Vaticano II. Per esempio, in questa tornata, il riconoscimento va ad Agostino Marchetto, soprattutto per il ruolo che ha avuto come segretario della congregazione che si occupava dei migranti e per una serie di interventi anche molto decisi che lui ha fatto. Non so se è per la fama che lui ha acquisito di interprete del Vaticano II. Come c'è stato il riconoscimento in passato per Raniero Cantalamessa, cioè il cappuccino predicatore apostolico e molti altri personaggi? Quindi c'è questo ruolo, poi c'è anche, si è sottolineato come in questi dieci anni dal punto di vista geografico si sia spostato... Sì, diciamo così che la scelta è anche stata di disseminare il cardinalato per tutto il mondo. Quindi si è passati da un'Europa al centro della Chiesa, appunto all'universalità di cui parlava. Passati da un'Italia al centro dell'Europa, da un'Europa al centro della Chiesa, dal mondo atlantico, nord atlantico, a tutto il mondo sostanzialmente. Questo riflette anche l'importanza che hanno i cardinali come elettori del nuovo Papa, perché in questo caso la loro rappresentanza viene a essere ecumenica. Tra l'altro noi stiamo parlando in prospettiva storica di tutte queste cose, che poi è il tuo esercizio quando hai smesso di insegnare all'università. Adesso hai aperto un blog che si chiama Quarta Vigilia Noctis, in cui mescoli, come stiamo facendo un po' adesso in fondo, attualità e storia. Ed è sempre una prospettiva molto interessante. Non so se l'abbiamo fatto anche vedere un attimo. Sì, perché il problema è sostanzialmente tutto quello che accade adesso, non è che accada nel vuoto. E soprattutto c'è un problema che si è posto, lavorando soprattutto sulla Chiesa contemporanea. Se ti dicono che questa cosa è sempre stata così, sappi che non è vero. Assolutamente falso. E questo ci aiuta ad andare alle radici della tradizione. A vedere come stanno le cose. Io ho sentito dire a un certo punto, quando ci fu la polemica, perché la Premier si presentò con Bergoglio, tutti e due vestiti di bianco, tutti direi, ah, il Papa è vestito di bianco così da sempre. Non è assolutamente vero. Il tipo di veste, sì, da bianco già dall'età moderna, ma il tipo di veste che ha adesso, il bianco padre, di fatto risale a Pio Nono. Quindi, come vedi, non è da sempre. Senti, lasciamo un attimo i cardinali e andiamo sul concistoro. Quello di domani è sostanzialmente una liturgia. Però il concistoro non è solo questo. È ogni riunione di cardinali? No, il concistoro... Dunque, adesso, il problema è che il concistoro è molto cambiato a causa dell'elevato numero di cardinali. Cioè, quando si discusse la canonizzazione di Celestino V, erano in dodici, litigarono... C'è proprio tutto il verbale, anche con le scritte autografe del Papa di allora. Chiaramente, se tu hai 240 cardinali, non c'è molto spazio per la discussione e diventa uno spazio comunicativo in cui, come è successo con Benedetto XVI, tu vai al concistoro pensando che proclamino i santi e il Papa ti dice che rinuncia. Ecco, però, è diventata più una comunicazione che non altro del Papa. E, infatti, anche questa volta, oltre alle nomine cardinalizie, ci sarà la proclamazione di alcuni santi. Però quella che vedremo in particolare domani è proprio una liturgia della creazione... Sì, della creazione, sì. ...dei cardinali. Sì, ecco, però bisogna sottolineare che il cardinalato, come il papato, non sono sacramenti, sono uffici. Questo è molto importante dal punto di vista teologico. Che significa dire che sono uffici? Significa che è un incarico che tu svolgi. Una funzione. È una funzione che tu svolgi. E quindi la tua caratteristica fondamentale in questo caso è di essere vescovo. Ma cardinale o Papa, comunque è una funzione. Lasciamo i cardinali, poi li ritroveremo domani mattina. Andiamo da una suora, un'amica, la suora Alessandra Smerilli, che è segretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Ciao Alessandra. Ciao a tutti. E allora, dove ti trovi? Raccontacelo tu. Io mi trovo al Palazzo Vecchio a Firenze durante la seconda giornata, la prima ufficiale, del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Che cos'è l'Economia Civile intanto, scusami? Difficile da dire in pochi secondi. Comunque... Ne hai dieci! Un'economia che vuole essere generatrice, rigenerante, a servizio della comunità e del bene comune, dove la dimensione economica, quella relazionale, quella spirituale, possono stare insieme. E che cosa vi ha detto? Papa Francesco ha mandato un messaggio. Quali sono... È un messaggio scritto, non possiamo farlo vedere. Quali sono i punti più importanti delle parole di Francesco? Il messaggio di Papa Francesco è stato innanzitutto di incoraggiamento. In realtà credo che Papa Francesco incoraggi sempre quando si parla di un'economia che vuole essere a servizio, così come lo ha fatto con i giovani di Economio Francesco. L'incoraggiamento, di esortazione ad andare oltre, di non guardare a ciò che divide, ma a quello che unisce per poter davvero cambiare l'economia. E l'invito a guardare al mondo e all'economia a partire dai più poveri, a partire dagli scartati. E questo a me sembra uno dei punti fondamentali, perché è quello che sta molto a cuore a Papa Francesco, e cioè non lavorare per i poveri, non la filantropia, ma mettersi nei loro panni, lavorare con loro e fare degli scartati e degli esclusi i protagonisti di un cambiamento. Il Papa ha usato un'espressione che mi ha incuriosito molto, vorrei che ci otassi a capirne bene il significato. Intelligenza sociale. Che cos'è l'intelligenza sociale? Mi viene un po' da sorridere, perché il messaggio della pace di quest'anno sarà, il messaggio del Papa, sarà sull'intelligenza artificiale. E quindi l'intelligenza sociale credo che sia quella capacità di riuscire a guardare e di riuscire a interpretare la realtà come comunità. A Papa Francesco piace la categoria di popolo, popolo che si esprime, popolo che guarda e quando lo si fa insieme si ha un'intelligenza diversa sulle cose. E allora, grazie, Sola Alessandra, e buon lavoro. Grazie. Grazie naturalmente anche a Roberto Rusconi. Domani doppio appuntamento il concistoro mattina alle 10, ma poi ci rivedremo alle 16, perché lo sapete insomma ne abbiamo parlato nella giornata di ieri. C'è una grande veglia in Piazza San Pietro con Papa Francesco ma i rappresentanti di tutta la cristianità, una veglia ecumenica dunque per pregare e invocare lo Spirito Santo in vista del sinodo che si aprirà solennemente il 4 ottobre, giorno di San Francesco citato anche oggi da Roberto Rusconi. Noi ci rivediamo allora domani pomeriggio alle 16. grazie per essere stati con noi e buona serata. applausi grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.